Finalmente il Consiglio Comunale, l'anno scorso di questi tempi stai pensando alla professione, alla famiglia e a rilassarti, poi è arrivato febbraio e ti hanno tirato per la giacchetta, come si suol dire, nel lagone politico e adesso inizia l'avventura in minoranza contro la maggioranza del sindaco Stani Verde. Sì, neanche un anno fa, forse già fino a febbraio, marzo ho fatto la mia professione, però poi c'è stato questo invito che per me è stato importantissimo, stravolgente e niente, poi il popolo foriano ha così deciso e noi prendiamo atto. Ruolo e funzioni in Consiglio Comunale, minoranza, minoranza che non è, come dicevamo già prima, non è opposizione, minoranza è guardare con attenzione all'azione amministrativa della nuova maggioranza a Stani Verde e alla sua compagine, se ci danno la possibilità, contributo di idee, formalizziamo delle proposte, speriamo che ci danno spazio, che ci danno anche l'opportunità di dire la nostra, quando la cosa è nella direzione dell'interesse del nostro territorio e dei nostri foriani, sicuramente sostegno pieno, quando poi le proposte e le scelte saranno non condivisibili manifesteremo il nostro dissenso con un voto contrario. Comincia oggi un nuovo periodo per Forio, credo e spero che faccia bene la compagine di Stani Verde perché è alla luce dell'ampio risultato elettorale, quindi ha i numeri per governare, ha le persone per poter decidere e fare le giuste scelte, e noi faremo il nostro ruolo così, come stabilisce la legge, la norma e il nostro amore per Forio. Due cose, la prima, se vi aspettavate di avere il Vice Presidente del Consiglio Comunale, la seconda, c'è stato nel tuo intervento un passaggio di sottile polemica rispetto all'operato dell'amministrazione che è rivendicato in questi giorni, sostenendo da parte tua sostanzialmente che si tratta di iniziative già programmate da tempo. Relativamente alla prima domanda, quella del ruolo di Vice Presidente, diciamo che noi abbiamo lasciato alla maggioranza l'indicazione se riteneva di affidarlo a un rappresentante della minoranza. Ciò non è avvenuto, però è stato individuato in Enzo Di Maio, il quale io conosco, stimo come persona, nulla da eccepire, abbiamo confermato questo indirizzo. Relativamente alla nota polemica, o leggera nota polemica, di cui ne avrei fatto volentieri almeno, perché questa non è più la sede, ormai la campagna elettorale si è chiusa, però da parte mia mi è sembrato doveroso, ma più che altro per dare una risposta ad alcuni illustri rappresentanti della maggioranza che nell'immediatezza, ancora otto giorni fa, parlavano come in campagna elettorale. Cioè è plausibile, cioè voglio dire, non è possibile che un'amministrazione che non ancora si è insediata abbia potuto già disporre e realizzare opere pubbliche come l'asfalto che solo per la programmazione, per l'appostamento delle cifre, per le determine, per le delibere, ha bisogno della funzione dell'aggiunta che oggi Sani Verde, ancora solo stasera, è stata nominata. Quindi sono cose che vengono lasciate in eredità, come la Polizia delle Spiagge. Ogni anno si è sempre stato fatto, probabilmente quest'anno hanno avuto più visibilità, sono stati bravi a pubblicizzarlo, a veicolarlo sui media, ma questo non toglie che però erano operazioni già programmate come la Polizia delle Spiagge. Allora, credo che una maggioranza così forte non abbia bisogno di questi mezzucci di informazione. Deve giustamente adesso lavorare, programmare e sulla scia delle tante cose che gli sono state lasciate in eredità, come potenzialità di finanziamento e come progettazioni, può tranquillamente dimostrare il suo valore e quindi avere anche il nostro consenso, il nostro appoggio come minoranza.